Buongiorno! Ehm, buongiorno! Ehm, buongiorno! 81 allora! C'è Alessandro! Ehi! E Nico è qui e non posso inquadrare! Ci hanno detto che ci hanno raccontato che c'è una casa e se tu gli tiri una pietra allora te la restituisco! Stiamo andando accostati a dire se sia vero! Il Psychoblog! Ma chissà che... Questo è il dilema del Psychoblog che sono a casa! Scusate cosa ne pensi? Io penso che... Ho molto paura! Io penso che... No no! Allora io non ci credo! Però se è vero! Ben penso! Cicchione che entra! Tu che ne pensi? Dimmi che mi penso io! Tu invece cosa ne pensi? Secondo me l'esperienza è abbastanza dolcata Non è mai più bello! Non è mai più bello! Non è mai più bello! In spirito! Ragazzi allora più tardi! Siamo arrivando... Siamo in piazza! C'è me in piazza! C'è me in piazza! C'è me la più tardi! Ma vai via! Vai dai! Siamo in piazza! Io l'ho detto no! Paria! Paria! Ecco! E qua! No! Tutto brutta da ora! Ah giusto! E' qui! Picchia picchia! 30! 40! Guardami guardami! 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 Caro caso è brutto! Eh ma... E' azz... giù già! Massima assurata! Ego! Ma... 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 Quando te posso scendare a piedi! no non è un'altra roba sapermati io non lo dobbiamo scendere perchè la notte è la funzione non è passata la macchina dc 9 si può capire il cd amoni di qua mettono almeno in basso il simbolo a te neppie negli ultimi si 10 minuti se non abbiamo fatto 2 minuti e di conto facciamo sempre video piccoli ah no dove lo metto? sali di qua va cazzo che sto f***ando così dove puoi andare? di qua? proviamo ad andare di qua di qua di qua di qua eh no 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 qua c'è la freccia vuol dire che ci si guarda ma che no c'è ti levo le pupille è una bellissima zona come no non è che l'ho capito benissimo questa casa comunque quindi anche c'è gente non puoi vedere non puoi rambè allora vabbè appena arrivano ecco per adesso dovete vedere la mia faccia perché c'è un po' di ragazzi mamma mia un attimo non puoi vedere la mia faccia ma non puoi vedere il cellulare cretino ma qua c'è Borat ma giù io lo vedo ma dov'è sta casa? ma vuoi stare qua? allora c'è la Borat ma posti non c'è abito il maestro maestro il maestro è un attento canta per me cantore no non mettere non ricordare una canzone di amore ma da cazzo siamo? ah i cazzo tu puoi riusci a bloccarla? no no se c'è la freccia dov'è andare di qua quando pare senti mi sa che non la troviamo sta casa noi picciolo hai già trovato via Palermo troppo stretto no, ci passiamo a mandare a piazza con lo scooter a piedi ci abbiamo andato ma vai con l'urizio e ci passa qua, com'è? ma no di qua sopra se non è qua non ho idea di cosa ci sia eh, continuo a passare qua aiuto, guarda, guarda ah, che ti piace sta strada, è proprio suggestiva, ma nemmeno ma c'è dietro si, un G passa Nico, di qua ci passo ci passa non so, per di qua ci sono andato allora io non lo so, mentre ero così, vabbè ora lo favo tu ragazzi, ragazzi, guardate dove stavo andato picchia da scandalo stava a gente ah, è il piede è il piede guarda il monitor ah, è il piede è il piede è il piede è il piede di qua non so, è il piede perché non lo so, non lo so non lo so, non lo so scappate che ti ammazzo vabbè basta ho capito addio addio mi fate ma che ne che va a scegliere no non c'è gente aspetta aspetta vai indietro indietro che ci vado bene mi spendi questi io lo capisco dove? poco fa quando mi ripeti di quale dice che adesso c'era una cosa dove c'erano tutte quelle case al buio no l'ho serrato ma speri io guardo due secondi qua basso ma voglia oh picciocco mi spavendo troppo cazoooooo ma sta c'era uno che stava venendo viva 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 addio c'era uno che si sta avvicinando frettosamente si correva un gare no un cristiano vediamo se devi bene lo faccio di qua nico di qua devi prendere a testa caruzzo 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 guarda da sopra, vai avanti, vai avanti, nico cammina invece che c'erano giù quelle case là da sopra ragazzi per i costi sbendati, sbendati non sappiamo dov'è non sappiamo dov'è io in questo modo mi sono andato qua, mi sono fatto un giro però non so dove e quindi a 6 e 2 oh anzi non sappiamo dov'è, qualche giorno vabbè ma cazzo quando a te mi scordi tu non c'eresta eravamo quando non mi ruotava niente è finito è finito è finito non c'erano di scegliere quando mi ero sani cosa c'erano di scegliere cosa c'erano di scegliere cosa c'erano di scegliere ce ne andiamo ora ma non andò a provvidenzo ma è quello eh ma è chi sta provvidenzo che mingagli diciamo agli altri ma gli impugniamo gli impugniamo si era un guardare il salato non abbiamo capito non abbiamo capito non abbiamo capito vabbè a dopo anzi no ma... ma...